Buongiorno a tutti, io credo che questa volta contrariamente alle mie abitudini parlerò da seduto perché per vari buoni motivi, uno è che il microfono è corto e quindi per averlo vicino devo star seduto per forza, ma il vero motivo è che ho una scaletta assai densa perché oggi parliamo di un argomento complesso, l'argomento è la nobiltà di Dante, la nobiltà in Dante, Dante è la nobiltà e non solo tutto quello che riguarda Dante è complesso perché ovviamente su ogni parola scritta da Dante abbiamo secoli e secoli di commenti su ogni singola parola, ma l'argomento è complesso soprattutto perché come sanno i colleghi presenti la nobiltà nel Medioevo è un tema estremamente spinoso, direi che pochi concetti sono più sfaccettati e più sfuggenti del tema della nobiltà nella società medievale in genere e in particolare nelle città italiane dell'epoca di Dante, del resto lo sapevano benissimo anche loro, Bartolo da Sassoferrato, grande giurista trecentesco da qualche parte scrive verbum nobilis equivocum est, la parola nobile è equivoca, ambigua, può voler dire diverse cose, la nobiltà nel Medioevo non ha definizioni ufficiali, non riveste connotazioni giuridiche precise e la netta sensazione è che la gente stessa dell'epoca potesse intendere cose diverse quando parlava della nobiltà, a seconda della posizione sociale per esempio, un conto è cosa vuol dire nobile se tu sei, se tu sei un nobile, se tu sei un membro della classe dirigente di una grande famiglia, un conto è quello che poteva pensare della nobiltà una persona qualunque, un artigiano, il calzolaio all'angolo, nobiltà vuol dire essere ricchi, potenti, importanti, famosi o vuol dire anche essere antichi, ecco non è detto che tutti la percepissero allo stesso modo e poi c'è anche un'altra cosa, qui stiamo parlando, lo capite, di un concetto, uno di quei concetti che venivano sviscerati dai filosofi, dai teologi e che venivano sviscerati anche dai giuristi, ma tutta questa gente parlava in latino, pensava e scriveva in latino e in latino lo abbiamo visto citando Bartolo veniva naturalissimo parlare di nobilis, nobilitas, nel fiorentino del tempo di Dante raramente si usavano nobile, nobiltà, erano molto più diffuse altre parole, gentile, gentilezza, avete presente tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, verso famoso che viene sempre citato per dire attenzione perché l'italiano dell'epoca è pieno di trappole, nessuna parola di questo verso vuol dire quello che vuol dire oggi, no? Né gentile né onesto né pare, ecco, gentile in particolare viene da James, uno che ha dietro una famiglia e sappiamo dai cronisti fiorentini del 200 e del 300 che chi apparteneva alle famiglie ed era quindi gentile non è affatto detto che nel comportamento fosse gentile nel senso che intendiamo noi, anzi era gente che andava in giro armata. Dopodiché appunto in volgare si dice raramente nobile, nobiltà, si può fare perché il latino stinge sul volgare e chi ha in mente il vocabolario latino usa anche gli equivalenti italiani, ma un bravo uomo di Firenze che il latino non lo sapeva avrebbe parlato di gentili uomini e di gentilezza e lo stesso Dante lo fa. Per esempio c'è una canzone, una delle canzoni giovanili che poi saranno commentate nel convivio, Le dolci rime, in cui Dante dichiara qual è la sua intenzione. E dicer voglio o mai siccome io sento che cosa è gentilezza e da che vene e dirò i segni che il gentil uom tene. E cioè adesso voglio dire per quanto sembra a me che cos'è la nobiltà e da dove deriva e dirò come si fa a riconoscere un nobile i segni che il gentiluomo tene. Ed è interessante che Dante quando nel convivio, qualche anno dopo, queste sono canzoni degli anni 80-90 quando lui era a Firenze, faceva politica, apparteneva come dire al mondo dei cittadini impegnati politicamente e di una certa autorità, lo commenterà poi questo verso, questa poesia, questa canzone, la commenterà poi nel convivio che è già nei primi anni del 300 quando è già in esilio, gli è crollato il mondo addosso, è cambiato tutto, nel convivio Dante commenterà questa canzone e dirà la gentilezza o ver nobilitate che per una cosa intendo, cioè che per me sono la stessa cosa. E cioè quale cosa? Il problema è questo, che in volgare gentile vuol dire una cosa sola. Se volevano parlare di una persona che nel tratto era simpatica e signorile, avranno forse detto cortese, che peraltro aveva anche lì un significato più complesso, ma certamente nel volgare che parlava Dante gentile voleva dire uno che appartiene a una grande famiglia, questo voleva dire, e che ha degli antenati. Nobile no, perché nobile si poteva usare in mille modi e sempre nel convivio Dante lo dice, sentite qua, se volevamo riguardo avere della comune consuetudine di parlare, cioè se vogliamo andare a vedere come parla la gente davvero, per questo vocabolo nobilitade, con questa parola nobiltà, si intende perfezione di propria natura in ciascuna cosa, onde per cui non pur dell'uomo è predicata, ma è zian dio di tutte cose, cioè nobile si può dire a qualunque cosa, non solo a un uomo, non solo a un essere umano, che l'uomo chiama nobile pietra, un diamante per esempio, nobile pianta, la rosa, nobile cavallo, nobile falcone, però allora capite Dante ci sta dicendo che in italiano nobile vuol dire una cosa perfetta, una cosa delle migliori nel suo genere, nella sua categoria, non è mica la stessa cosa dell'avere degli antenati famosi, sono due cose un po' diverse. E in realtà Dante qui, quando dice gentilezza o ver nobilità, delle intendo come la stessa cosa, sta giocando su un equivoco, è un equivoco che da sempre nella cultura occidentale è stato tirato fuori e però è una questione che interessa gli intellettuali, che interessa i poeti, che non ha una ricaduta su come la gente comune intende la nobiltà. L'equivoco è questo, la vera nobiltà non consiste nell'avere degli antenati, vantarsi della propria famiglia, la vera nobiltà consiste nella virtù, bisogna essere virtuosi per essere veramente nobili. Questa cosa è una delle cose più vecchie che si trovino nella cultura occidentale, più trite e ritrite, masticate e rimasticate. Questa storia che la vera nobiltà non vuol dire vantarsi degli antenati ma essere virtuosi, vi ho fatto un brevissimo elenco di quelli che ne parlano, Aristotele, Seneca, Giovenale e poi più vicini a noi i trovatori provenzali, Brunetto Latini, è un argomento di scuola, è un argomento da esercitazione per gli studenti, è un argomento per chi vuole scrivere una canzone e non sa bene di cosa parlare, è un argomento per i moralisti, scrivo un trattato, de vera nobilitate, è una roba appunto vecchia e stravecchia, i poeti al tempo di Dante ne stanno parlando in lingua italiana da tempo, per esempio Guido Guinizelli, una canzone che si intitola Al Cor Gentil. Io mi scuso, in questa lezione citerò spesso dei brani in italiano, ma talmente carichi di stratificazioni, di significati che vanno tradotti, io li traduco, li commento via via in modo che ci capiamo, scrive Guido Guinizelli, fere lo sol e lo fango tutto il giorno, il sole colpisce, illumina il fango tutto il giorno, vile reman, il fango rimane vile, né il sol perde calore, in realtà il sole non si scarica per il fatto che illumina il fango, ma non è che il fango diventa una cosa nobile perché è illuminato dal sole. A questo punto Guido Guinizelli di colpo mette in scena un nobile del suo tempo, dis homo alter, dice l'uomo altero, gentil per sclatta torno. Io, noi non diciamo più torno, ma magari diciamo resto, rimango, ecco io rimango nobile per sclatta, per la schiatta, la famiglia. Io per la mia famiglia sono nobile, gentil. Lui sembro al fango, lo paragono al fango, al sol gentil valore, il valore nobile come il, cioè la virtù appunto di nuovo, è come il sole, che non de dar om fe, perché l'uomo non deve credere, aver fede, che gentilezza sia for di coraggio, che esista la nobiltà al di fuori del cuore. Indegnità de re, cioè per la dignità ereditata dagli avi, non esiste questa roba. Se da vertute non ha gentilcore, uno che non abbia il cuore rivolto alla virtù e quindi alla nobiltà non deve credere di essere nobile. Ve l'avevo promesso che era una cosa difficile, avrete pazienza, ma il primo nucleo di questa cosa nasce da una lezione che ho fatto l'anno scorso alla casa di Dante a Roma. Lì sanno tutti Dante a memoria e bisogna mantenere il discorso su un piano, come dire, un po' alto per riuscire a dire qualche cosa di interessante. Quindi in sostanza avete capito? Il sole illumina il fango tutto il giorno, il fango rimane fango e se tu la virtù non ce l'hai dentro non è che quella di qualcun altro ti nobilita, puoi anche discendere da un grande uomo, da un grande personaggio virtuoso, ma non sei tu, tu ce la devi avere dentro la virtù per essere nobile. Ora, va benissimo, ma Guido Guinizzelli sa benissimo che quando per le strade di una città italiana si incontra un gran signore a cavallo, quel gran signore a cavallo in cuor suo pensa, gentil per sclatta torno, io sono nobile perché ho gli pezzenti e quindi nella vita sociale vera i giochini dei poeti valgono fino a un certo punto. Dopodiché, superiorità sociale quindi, la nobiltà per definizione è superiorità sociale ereditata per nascita, nella società dei comuni medievali però non ci sono di norma privilegi, un conto diverso è il fatto che uno dice io sono nobile e voi pezzenti, ma questo non ha una ricaduta giuridica, non è come sotto l'antico regime, sotto l'antico regime nel 500, nel 600, nel 700, la nobiltà è sempre una cosa complicatissima da individuare, è sempre un argomento pieno di contraddizioni, chiarire chi è nobile, chi non lo è, a che livello sei nobile, è sempre molto più complicato di quello che noi crederemmo, però se non altro sotto l'antico regime la nobiltà è una qualifica giuridica che ti dà diritto a rivendicare dei diritti, dei privilegi, in tribunale puoi fare certe cose, se sei nobile e se non lo sei non le puoi fare e quindi sotto l'antico regime ci sono tutta una serie di cose che nel medioevo non c'erano, registri delle famiglie nobili, registri delle famiglie autorizzate a portare uno stemma, che non è detto che sia la stessa cosa che essere nobile però aiuta, processi, processi per dimostrare che noi siamo nobili, il 700 è pieno perché essere nobile vuol dire che hai dei privilegi e quindi ti trovi dei buoni avvocati che vanno a rovistare nelle pergamene medievali per dimostrare che tu appunto i tuoi antenati sedevano già in consiglio comunale nell'anno 1300, peccato che nell'anno 1300 invece non c'era affatto l'idea che c'è qualcuno che è nobile e quindi ha diritti giuridici diversi dagli altri, però qualcuno che aveva dei privilegi giuridici nella Firenze di Dante c'era, o nella Bologna dello studio, ecco, c'era ed erano i cavalieri, ma essere cavaliere non era una qualità ereditata, non si nasce cavaliere, si diventa cavaliere perché sei passato attraverso la cerimonia dell'addobbamento cavalleresco e di conseguenza è una caratteristica personale nel mondo dei comuni che noi per tanto tempo abbiamo visto attraverso il filtro degli italianisti che commentavano magari Dante o Boccaccio parlando di spirito borghese, di mentalità antifeudale, ecco, e noi ci immaginiamo quindi questo mondo comunale che per carità è davvero pieno di mercanti, di artigiani, di gente che fa i soldi, però quelli che contano vanno in giro a cavallo con la spada e quelli che contano più di tutti sono quelli che, perché hanno una famiglia intorno importante, se no se ne andrebbero ridicoli, perché hanno un nome importante e uno stemma e un sacco di soldi da spendere un bel giorno sono stati armati cavalieri in pubblico con il rituale dell'addobbamento, a quel punto una persona cambia di qualità, se sei cavaliere in tante occasioni hai la precedenza su tutti gli altri, ogni volta che si elenca in un documento chi c'era i cavalieri sono elencati per primi, quando ci sono grandi cerimonie pubbliche all'aperto, sapete che nel medioevo si sta tantissimo all'aperto, intanto perché fa caldo in questi secoli ancora e poi perché gli edifici sono insufficienti, bui eccetera, si sta tanto all'aperto e allora capita che c'è una grande e importante cerimonia a cui assiste una gran folla in piazza e tutti si siedono per terra, ma per i cavalieri ci sono invece delle panche perché i cavalieri non si siedono per terra come tutti gli altri e poi il cavalieri ha diritto a essere chiamato messere, dominus nei documenti latini. Altra cosa che oggi ci sfugge perché noi siamo abituati, come dire, dagli sceneggiatori del cinema a immaginare che nel medioevo tutti quanti si chiamassero messere, non è assolutamente così, anche se, qui mi rivolgo ai colleghi bolognesi, mi pare che a Bologna erano più generosi i notai con questo dare del dominus, a Firenze erano rigorosissimi, sei dominus se parliamo latino e sei messer tal dei tali se parliamo in volgare, sei sei cavaliere e così a Firenze nessuno si sarebbe sognato di rivolgersi a Dante chiamandolo messer Dante, come invece succede in una novella del Sacchetti, fine 300, dove un genovese che incontra Dante e che è sbalordito di incontrare il grande poeta, allora lo chiama messer Dante, ma da quello si vede che è un provinciale, a Firenze non gliel'avrebbero mai dato del messere perché non era cavaliere. Quindi essere cavaliere da alcuni diritti, come vedete non sono grandi cose da un punto di vista concreto, però sono soddisfazioni. Aver diritto a essere chiamato messere è come aver diritto a essere chiamato dottore e infatti in realtà non è vero che solo i cavalieri hanno questi diritti, c'è un'altra categoria, a parte i dignitari ecclesiastici cambia un po' da una città all'altra ma insomma l'arcidiacono, messere anche lui, ma fra i laici oltre ai cavalieri anche i laureati. I laureati sono pochi, la cerimonia di laurea è qualche cosa che ha fatto di te una persona diversa da prima e quindi anche i laureati hanno diritto allo stesso trattamento e alle stesse qualifiche. L'analogia con l'oggi è scarsa ma rimane però in una cosa che anche se siamo tutti dottori e del resto in Spagna todos caballeros e quindi comunque vedete che la cosa ritorna però di fatto una persona ha diritto a essere chiamata dottore a partire da quell'istante in cui alla fine della cerimonia di laurea il presidente della commissione gli ha detto e perciò la proclamo dottore in. Ecco allo stesso modo l'addobbamento caballeresco trasfigura una persona e la rende appunto privilegiata. E allora perché vi dico tutto questo? Perché nel medioevo molta gente soprattutto la brava gente che non leggeva di teologia e di filosofia antica e viveva la sua vita normale senza preoccuparsi troppo del mondo delle idee, la brava gente poteva tendere a confondere i cavalieri con i nobili cioè a pensare che la nobiltà volesse dire essere cavalieri o comunque far parte del loro mondo. Cavalieri li riconosci non solo perché appunto tutti si ricordano di ciascuno di loro quando c'è stata quella grande cerimonia in cui ha speso un sacco di soldi ed è diventato cavaliere e insomma tutti li trattano con un certo rispetto particolare e poi i cavalieri e ovviamente anche i loro parenti e i loro amici anche senza essere cavalieri e però però fanno i tornei i giochi d'arme hanno uno stile di vita che li separa dal resto della gente e questo stile di vita dei cavalieri per i contemporanei di Dante è in fondo la nobiltà, quello è la nobiltà e far parte di quell'elite dorata che vive in quel modo lì. Se uno avesse chiesto a una persona qualunque ma chi sono secondo te quello lì è nobile ecco e quello lì ci avrebbe pensato e avrebbe detto ma dunque è cavaliere, sì è cavaliere quindi è nobile e non è un esempio immaginario è successo davvero. Ad Arezzo nel 1238 il monastero di Santa Fiora fa causa ai figli di un cittadino che si chiamava Ughetto di Sarna perché i monaci sostengono che il padre Ughetto di Sarna appunto era in realtà un servo fuggitivo del monastero e quindi loro vogliono prendersi l'eredità. Per stabilire se è vero o no bisogna sentire dei testimoni. I testimoni arrivano. Chi era questo Ughetto di Sarna? Era davvero un servo del monastero di Santa Fiora come dicono i monaci e tutti gli intervistati, tutti i testimoni chiamati dicono ma figuriamoci. Quello lì no no era nobile Ughetto di Sarna figurati se era un servo. A questo punto gli inquirenti che di solito sono tignosi vanno nel... e come mai sai che era nobile? E questi rispondono ma intanto era considerato nobile. Era considerato uomo onorevole e nobile è tutto tradotto in latino e quindi si usa nobilis va a sapere involgare loro che parole usavano ma in latino è nobilis. Era tutto... tutti lo consideravano onorevole e nobile ed era ricevuto fra la gente come nobile e onorevole. E perché era ricevuto e considerato nobile? Ma perché viveva come i nobili. More nobilium. E perché? Cosa vuol dire che viveva come i nobili? Andava a cavallo armato e partecipava alle giostre. L'ho visto tante volte giocare con le armi come fanno i nobili. Allora qui vedete che per questi testimoni brava gente di Arezzo della generazione dei nonni di Dante essere nobili vuol dire essere gente che partecipa a quello stile di vita. È il modo in cui vivi che ti fa riconoscere come nobile. Dopodiché l'addobbamento cavalleresco è la sanzione giuridica ufficiale inequivocabile che tu fai davvero parte di quel mondo. Naturalmente nel mondo dei comuni può anche succedere che all'ammirazione che i testimoni aretini sembrano dimostrare nei confronti di Ughetto di Sarna il quale fra parentesi non mi ricordo più se ve ne riparlerò più avanti probabilmente sì ma per evitare che me ne dimentichi ve lo anticipo adesso era davvero un servo del monastero di Santa Fiora ma tale era la mobilità sociale in queste città che in una generazione un uomo era in grado di immigrare dalla campagna a fare i soldi e atteggiarsi a cavaliere ed essere accettato come uno di loro dai nobili della città. Detto questo molte testimonianze ci fanno appunto pensare che nelle città italiane ci fosse un clima di ammirazione per questa gente e chi aveva fatto i soldi in realtà in cuor suo desiderava diventare anche lui uno di quei nobili cavalieri ma in certe città e Bologna è una di queste e Firenze è un'altra succede anche un'altra cosa succede che c'è anche una folla di gente che lavora che anziché lasciarsi trascinare dall'ammirazione per questi bei signori che vanno a cavallo comincia a fare un pensamento diverso e cioè comincia a pensare ma perché esattamente sono loro che comandano in città? In altre società bisogna aspettare il 300 alle grandi rivolte contadine perché qualcuno comincia a dire ma perché sono i nobili che comandano? In Italia comincia già prima comincia già nel 200 i nobili comandano e comandano con durezza e con violenza anche nelle organizzazioni come dire non si può dire democratiche non si può dire parlamentari ma consigliari dei comuni italiani in cui c'è una gran partecipazione si vota continuamente commissioni, sotto commissioni però i nobili sono sempre presenti orientano il voto indicano i candidati e quando le cose non vanno come vogliono loro tirano fuori la spada allora nelle città più avanzate come Bologna e Firenze a un certo punto comincia a delineare su un movimento di popolo dove i singoli anziché pensare io faccio i soldi e divento uno di loro cominciano a pensare tutti noi che lavoriamo dovremmo invece buttarli fuori questi gran signori dovremmo buttarli fuori e governarla noi la città e allora nascono questi movimenti che vogliono appunto riformare il governo del comune e avere un governo di popolo un governo di popolo Dante farà parte nei pochi anni in cui fa politica a Firenze fa parte del governo di popolo anche il popolo si può intendere in tanti modi chi lo intende in modo estremo dice governo di popolo vuol dire che anche il venditore d'olio all'angolo deve poter far parte delle commissioni e essere chiamato a prendere decisioni poi c'è chi pensa che governo di popolo debba voler dire piuttosto governo della confindustria e quindi dei grossi di quelli che trattano affari importanti ma sempre si tratta comunque di quelli che lavorano e fanno soldi e non dei nobili signori che vanno in giro con la spada allora nei governi di popolo a un certo punto si dice bene se vogliamo fare le cose sul serio siccome questi nobili signori queste grandi famiglie che governano il comune da sempre sono tante numerose potenti armate hanno torri palazzi terre e castelli in campagna i loro contadini che vengono armati in città quando i padroni hanno bisogno di far pressione sulla piazza e allora nei movimenti di popolo si tende a dire forse dobbiamo garantirci contro questa gente forse se vogliamo avere davvero il potere nelle nostre mani noi che lavoriamo e facciamo i soldi bisogna fare delle leggi per cui questi grossi prepotenti non possono più far parte delle principali giunte di governo solo così ci garantiamo è l'epoca delle liste è l'epoca in cui si fanno le liste dei buoni e dei cattivi in cui i guelfi prendono il potere in città e fanno le liste dei ghibellini che vanno espulsi dalla città a Firenze centinaia 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 di nomi e allora si va avanti con le liste facciamo la lista delle famiglie che d'ora in poi siccome qui in questa città governa il popolo non potranno più far parte degli organi principali di governo e con che criterio le facciamo le liste in realtà come tutte le liste si fanno discutendo negoziando vedendo quello lo metto no quello è amico di mio cognato non mettiamolo però allora mettiamo quell'altro vabbè quello mettiamolo ma siccome c'è gente anche seria che vorrebbe avere un criterio che si possa dichiarare in pubblico perché poi bisogna far votare i consigli su queste cose e allora l'unico criterio a cui riescono ad arrivare è quelli che hanno dei cavalieri in famiglia non solo i cavalieri sarebbero troppo pochi ma tutte le famiglie che hanno un cavaliere che hanno un cavaliere adesso e anche in passato poi si discute gli estremisti dicono da 30 anni chi entro gli ultimi 30 anni ha avuto un cavaliere in famiglia fuori queste sono le discussioni e le varie riforme degli ordinamenti di giustizia a Firenze poi si arriva a una formulazione un po' più leggera 20 anni poi si arriverà a dire e Dante voterà a favore di questa attenuazione almeno due cavalieri negli ultimi 20 anni Dante aveva avuto un prozio cavaliere quindi probabilmente a lui poteva anche oltre a un trisnonno ma di lui parleremo comunque capite qual è il punto attraverso mille accordi negoziati pressioni in una città dove i gruppi di potere sono tanti però la linea di tendenza è dire qui governa il popolo quindi i più grossi non li vogliamo e la definizione dei più grossi non può essere quanti soldi hanno perché anche il popolo fa soldi deve essere un'altra ed è avere i cavalieri in famiglia vuol dire che fai parte di quel mondo lì non sei dei nostri e gli ordinamenti di giustizia a Firenze lo dicono chiaramente affinché sui potenti ovvero magnati in futuro non nascano più dubbi potenti o magnati sono i termini con cui il popolo designa questi nemici del popolo per l'appunto si intendano per potenti nobili o magnati e siano trattati come tali quelli nel cui casato c'è un cavaliere o è stato un cavaliere negli ultimi vent'anni dopodiché a dimostrazione che in politica non conviene mai legarsi le mani e mettere troppi vincoli allora saranno magnati nobili quelli che hanno avuto un cavaliere negli ultimi vent'anni oppure quelli che l'opinione comune volgarmente chiama e considera potenti nobili o magnati e in questo modo ci puoi far rientrare chiunque se vuoi e Dante Dante appunto in questi anni sedeva nei consigli di governo partecipava al governo di popolo ha votato per lo statuto che diminuiva un po' la pressione due cavalieri invece di uno ma ha votato come esponente di fiducia perché lì chi si alzava a parlare in quei consigli in molti casi ci si accorge benissimo dai verbali che non è che chiunque voleva ecco no no c'era una regia deve passare questo provvedimento interviene uno a parlare a favore del provvedimento e quell'uno in un caso appunto è Dante e dunque fa parte del governo di popolo certo non ha niente a che fare con i magnati e per la brava gente magnati e nobili è la stessa cosa anche se appunto certo è la stessa cosa se si ragiona come i poveretti i quali vedono uno ricco e potente che va a cavallo ma chi ne sa di più come Dante ricordate cosa abbiamo detto all'inizio si ricorda che in realtà gentilezza viene da James e che quindi dovrebbero entrarci gli antenati vedete come i criteri sono contraddittori se uno dice leggo gli ordinamenti di giustizia qua si dice che nobile è sinonimo di magnate e che i magnati sono quelli che hanno un cavaliere in famiglia negli ultimi vent'anni però per qualcun altro nobile vuol dire chi ha degli antenati importanti allora dipende dal criterio che adottiamo e cominciamo a capire perché perché Bartolo diceva verbum nobilis equivocum est può voler dire tante cose e quando adesso cercheremo di capire qual era la posizione di Dante tenete presente appunto questa cosa non si può basarsi su un solo criterio bisogna capire che criterio stiamo usando in realtà gli storici hanno dimostrato che la maggior parte delle famiglie di magnati erano anche abbastanza antiche e quindi il criterio degli antenati valeva ma non tutti c'erano anche tra i magnati famiglie che venivano da un successo economico recente proprio perché come vi dicevo all'inizio in realtà per molti mercanti l'obiettivo era voglio anch'io i cavalli le armi la torre il titolo di messere le terre e i contadini quindi una volta che ho fatto i soldi li investo in quella direzione e al tempo di Dante sono magnati con cavalieri vassalli armati masnade di guardie del corpo torri abitudine alla violenza anche tante famiglie che vengono fuori da appunto da un'esperienza recente e che quindi non sono nobili tecnicamente almeno a Firenze dove la memoria è lunga tanto per darvi un'idea delle ulteriori complicazioni le città italiane dell'epoca sono una diversa dall'altra e sempre il nostro Bartolo da Sassoferrato il giurista ci dice ci sono città dove quando diventi cavaliere automaticamente diventi nobile Perugia per esempio a Perugia dice Bartolo se un plebeo diventa cavaliere è considerato nobile ma nella città di Firenze anche dopo che è diventato cavaliere rimane plebeo perché hai un bell'essere cavaliere è la dignità più alta di tutte sei messere ci scappelliamo ma ci ricordiamo che tuo nonno trafficava in bottega e quindi sarai il cavaliere sei anche magnate potente tutto quello che vuoi ma non sei nobile cosa che spinge Bartolo disperato a dire capita perfino che la stessa persona sia nobile in un posto e non sia nobile nell'altro a seconda di dove vai ti considerano nobile oppure no queste famiglie che sono magnatizie che sono addirittura al vertice delle fazioni dei magnati ricordate che al tempo di Dante la tragedia della politica fiorentina che è anche la tragedia di Dante e che i guelfi al potere si spaccano guelfi bianchi e guelfi neri e ci sono due grandi famiglie al potere i cerchi e i donati grandissime potentissime famiglie ma i cerchi pur essendo magnati non sono nobili perché sono venuti su da poco ed è impressionante come i cronisti dell'epoca insistono sul fatto che i cerchi e i donati che a vederli sono identici come comportamenti come stile di vita e che anche per le leggi di Firenze sono identici perché a questo punto sono magnati gli uni e gli altri ma sono due sostanze completamente diverse i donati sono nobili veri i cerchi sono venuti su da poco e quindi non ce la possono fare questa è l'implicazione scrive il Villani i cerchi erano uomini morbidi e innocenti morbidi deboli la durezza e la brutalità sono le caratteristiche dei nobili tu invece sei venuto dal mondo degli affari sei abituato a negoziare non va bene se vuoi gestire il potere innocenti non conoscono il mondo non hanno visto niente non sono abituati a andare a portare le ambascerie alla corte dell'imperatore o del papa come fanno i nobili salvati chi e ingrati sempre Villani che descrive i cerchi salvati chi sono venuti dalla campagna da un poco da poco tempo e si vede ingrati non sono capaci di crearsi il consenso siccome genti venuti di piccolo tempo in grande stato e podere contano tantissimo nella politica fiorentina ma hanno questo vizio d'origine che li rovinerà e dice Dino Compagni che quando si delinea lo scontro fra i cerchi e i donati solo gli ingenui pensavano che i cerchi potessero farcela ma i savi uomini diceano e sono mercatanti e naturalmente e sono vili e i loro nemici sono maestri di guerra e crudeli uomini la nobiltà significa saper fare la guerra non per niente la cavalleria le armi le torri i castelli la nobiltà significa saper fare la guerra ed è una cosa che si eredita anche i cerchi sono cavalieri da due generazioni non basta poi magari non è vero ma nella percezione di questi cronisti è così solo i nobili sanno fare la guerra e dunque essere gentili uomini vuol dire essere ricchi e abituati a comandare e avere dei cavalieri in famiglia e tutto questo da molto tempo un'ultima cosa un'ultimo aspetto che va tenuto presente poi nell'ultima parte di questa lezione torneremo a Dante e alle sue opinioni cosa pensava lui di questo argomento come vedete è enormemente complicato l'ultimo tema è questo gli antenati e va bene essere cavalieri e va bene anche questo ma c'è un altro fattore che nella Firenze del tempo di Dante come dire è rivelatore di una posizione sociale ed è il cognome perché a Firenze al tempo di Dante non tutti hanno il cognome anzi la maggior parte della gente non ha il cognome al tempo di Dante e ancora per tutto il quattrocento e in parte ancora nell'età moderna a Firenze la maggioranza delle persone si chiama Lapo di Michele se proprio c'è il rischio di confusione Lapo di Michele di Lapo il nome del padre e il nome del nonno nome di battesimo nome del padre nome del nonno tutti i nomi di battesimo per l'appunto comunque perché questa gente è la gente comune i lavoratori gli artigiani i piccoli mercanti è gente che non ha famiglia in che senso non è che non abbiano anche loro dei fratelli e magari qualche zio o cugino ma è tutta gente non conosciuta nessuno li conosce per sapere chi sono i parenti di Lapo di Michele devi conoscerlo e allora saprai che ha sposato la Francesca del Neri e quindi è cugino di quell'altro però è gente che non conta non c'è bisogno di percepirli come una parentela molto spesso poi sono immigrati da Peretola non immigrati da chissà dove immigrati dalla Lastra a Signa ecco ma comunque per i fiorentini di città tanto basta si sente da come parlano che non sono dei nostri e quindi uno è immigrato laggiù nel suo Montelupo ci avrà anche dei parenti ma qui a Firenze no e lui ha aperto la sua botteguccia e poi invece ci sono le famiglie quelli che hanno un cognome e che non si chiamano Lapo di Michele ma Guido Cavalcanti o tutt'al più Guido di Messer Cavalcante Cavalcanti perché magari ti devi distinguere da un altro ma c'è il cognome e c'è il cognome perché i Cavalcanti sono gente importante in città da un secolo e quindi è importante poter dire i Cavalcanti sono un gruppo trovi dei loro tra quelli che comandavano in città già cent'anni fa e poi cinquant'anni fa e anche adesso e siccome sono in città da tanto tempo si sono moltiplicati sono tanti tanti zii e cugini e cugini terzi e quarti ma sono tutti Cavalcanti hanno lo stesso cognome lo stesso stemma certe volte sono così tanti che non riescono neanche a stare tutti insieme alcune di queste famiglie si spaccano alcuni con i Ghibellini e altri con i Guelfi ma nella maggior parte dei casi la famiglia si muove compatta è un piccolo gruppo di potere che comprende comunque anche decine di nuclei familiari abitano tutti insieme nello stesso sesto con le case tutte addossate le une alle altre con le loro torri ecco e e quello sono le famiglie avere un cognome è come avere uno stemma non è una cosa da tutti ma ben inteso è un procedimento del tutto informale quello che fa sì che tu abbia un cognome è perché a un certo punto uno della famiglia ha lasciato il suo nome nel ricordo ai figli e poi ai nipoti quelli di Cavalcante e a quel punto per le successive generazioni anziché ripetere a ogni generazione il nome di tuo padre si diceva quello lì è uno di Cavalcante Cavalcante era mio padre era mio nonno era il mio bisnonno ma siamo tutti quelli di Cavalcante i Cavalcanti per l'appunto non è una nobiltà perché basta diventare un po' conosciuti perché i vicini di casa comincino ad appiccicarti un cognome come Giovanni Villani il cronista che in realtà si chiamava Giovanni di Villano di Stoldo di Bellincione Villano era il padre però Giovanni Villani è un uomo famoso e allora i suoi figli e i suoi discendenti si chiameranno i Villani e Dante ce l'aveva il cognome sì mi direte voi Alighieri però non è così semplice perché i nostri documenti sono tutti in latino e il papà di Dante si chiamava Alighiero allora il primo documento in cui è menzionato Dante e di cui conserviamo il testo latino è del 1291 e lì Dante è detto Dante condam Alighieri Dante del fu Alighiero poi noi diciamo Alighiero loro dicevano sempre Alighieri sarebbe Dante del fu Alighieri ma va bene dai Dante del fu Alighiero è interessante questo documento è il primo documento appunto in cui vediamo agire Dante fa da testimone per un affaruccio una questione di una nomina di una procura per una causa ad affari tra gente e appunto gente uomini d'affari nel documento compaiono insieme a Dante del fu Alighieri Guiduccio figlio di Ciampolo ser maschio notaio del fu Bernardo Arringhiero figlio di Buonaiuto serbo Naventura notaio del fu Tano come vedete è un ambiente di gente d'affari di notai gente ricca però è tutta gente senza cognome ma nel 1295 Dante per la prima volta interviene in politica per la prima volta abbiamo dei verbali da cui risulta la presenza di Dante in un consiglio il consiglio delle capitudini delle arti maggiori siamo al vertice della politica cittadina è il consiglio che deve nominare i due priori i sei priori del prossimo bimestre cioè il potere esecutivo della città e qui e qui noi troviamo Dante Alagheri e allora vuol dire Dante di Alighiero oppure vuol dire Dante Alighieri andiamo a vedere gli altri che sono presenti Neri Attiglianti Gheri Paganetti Megliore Guadagni Oddo Altoviti Lando Albizi e tutta gente che ha il cognome a quel livello nelle massime giunte di governo del comune di popolo si poi ci entra anche qualcuno senza cognome ma la maggior parte della gente che arriva lì ha alle spalle una famiglia e allora anche nel caso di Dante noi siamo autorizzati a tradurre Dante Alighieri anche gli Alighieri sono una famiglia del resto un paio d'anni dopo troviamo un atto in cui Dante e suo fratello Francesco prendono in prestito 480 fiorini e nel documento sono definiti figli condam Alighieri de Alighieriis qui siamo tranquilli loro sono i figli del fuo Alighiero ma sono degli Alighieri e la nobiltà no però vuol dire essere qualcuno qualcuno di riconoscibile uno che ha una famiglia e solo una minoranza dei cittadini hanno una famiglia dopodiché capite qual è la situazione di Dante Cavalieri in famiglia ne ha avuto uno 20 o 30 anni prima ma era il prozio e se in linea di massima si dovrebbe scampare con la regola dei 20 anni con quella dei 30 anni era nei guai ma con quella dei 20 anni va bene negli ultimi 20 anni nessuno di questi Alighieri ha avuto un cavaliere con tutta la buona volontà non sono né i cerchi né i donati né i cavalcanti va bene e infatti sta nel governo di popolo però il suo migliore amico è Guido Cavalcanti frequenta gente di un livello sociale superiore al suo e la moglie è gemma di Messermanetto donati con tutto che i donati poi saranno alla testa del governo che esilierà Dante quindi essere imparentati non bastava però la moglie è una donati e spesso noi vediamo Dante in affari che prende soldi in prestito fa investimenti in comune con gente che è di quell'ambiente lì ha di mari di nuovo i donati allora Dante è esemplare delle ambiguità della condizione sociale in questa città questa è una città governata dal popolo dove ufficialmente governano quelli che lavorano e i magnati fuori però però poi al potere raramente ci arriva appunto quello che si sporca le mani davvero ancora in bottega ogni tanto ci arriva eh ma la maggior parte di quelli che governano in nome del popolo sono gente che tecnicamente fa parte del popolo perché sono riusciti a sfuggire in un modo però di fatto che è vicina all'aristocrazia dei cavalieri c'è poco da fare e allora uno se lo può chiedere ma Dante in cuor suo capite sono veramente quelle situazioni in cui ci si conta è dei nostri o non è dei nostri sta nel governo di popolo perché è davvero convinto di tutta la retorica che il governo di popolo tira fuori in quei decenni avalanga sul fatto che i magnati sono violenti e bisogna che la brava gente che lavora possa vivere sicura e tranquilla e la libertà di Firenze e la libertà del popolo di non essere oppressi dalla violenza e dagli abusi dei magnati cioè del mio amico Guido Cavalcanti di mio suocero Manetto Donati ecco e allora Dante è veramente in una posizione di un'ambiguità estrema in quegli anni e allora si capisce anche ed è l'ultimissima parte del mio discorso come mai le posizioni di Dante sulla nobiltà nell'arco della sua vita siano così contraddittorie perché Dante nell'arco della sua vita sulla nobiltà ha via via cambiato idea o perlomeno ha cominciato a dire e a scrivere cose progressivamente diverse l'abbiamo visto prima le dolci rime la nobiltà è soltanto la virtù aveva ragione Guido Guinizelli è inutile vantarsi degli antenati qualche anno dopo Dante nel convivio commenta questa sua poesia questa sua canzone di qualche anno prima e rimane su questo tono la prende molto alla lontana ragioniamo dice cos'è la nobiltà l'imperatore Federico II una volta ha dato una risposta domandato che fosse gentilezza cioè alla domanda che cosa fosse la nobiltà rispose che era antica ricchezza e belli costumi e cioè gli antenati essere ricchi da tanto tempo o degli antenati conosciuti e importanti e sono ancora ricco perché se non sono più ricco gli antenati è inutile vantarsi degli antenati però anche belli costumi la virtù perché tutti loro hanno letto Aristotele e brunetto latini la vera nobiltà e la virtù e quindi Federico II aveva cercato di cavarsela dando una definizione in cui stessero insieme quello che pensa la gente è nobile chi ha gli antenati chi è ancora ricco ma è ricco da tanto tempo non come i cerchi che hanno fatto i soldi da poco e puzzano ancora di villano ecco è nobile chi è ricco da tanto tempo ma è anche nobile e però deve essere anche virtuoso poi Dante dice fin qua Federico II ma la gente non ci arriva a queste cose pensando e rivolgendo questa definizione in ogni parte dice Dante nel convivio altri hanno levato via la seconda parte cioè i belli costumi e tenersi alla prima cioè all'antica ricchezza dice Dante lì è perché se uno dovesse andare a indagare la virtù hai voglia conviene a tutti limitarsi alla prima parte della definizione è nobile chi è ricco da tanto tempo e dico che questa opinione è quasi di tutti tutti coloro che fanno altrui gentile cioè che considerano una persona nobile per essere di progenie lungamente stata ricca con ciò sia cosa che quasi tutti così latrano tutti quasi tutti abbaiano delirano in questo modo il nobile è chi è ricco di famiglia ecco chi è ricco di famiglia sostanzialmente da tanto tempo e Dante è molto colpito da questo fatto che secondo lui è l'errore del volgo della plebe bel rappresentante del governo di popolo naturalmente la plebe ignorante sbaglia non capisce questa ultima opinione del volgo è tanto durata che senza altro rispetto cioè senza chiedersi nient'altro senza inquisizione di alcuna ragione gentile è chiamato ciascuno che sia figlio o nepote di alcuno valente uomo tutto che esso sia da niente anche uno che non vale nulla di suo è chiamato nobile se ha il padre o il nonno importante ma non solo c'è anche un passo del convivio in cui Dante va più in là e dice in realtà c'è un sacco di gente che non ha neanche capito che è importante essere potenti da tanto tempo tanta gente è così ignorante che vede i ricchi potenti che spadroneggiano e crede che essere nobili sia quello dice Dante questa è una follia qui nel convivio Dante è pienamente allineato col vecchio luogo comune per cui la nobiltà è la virtù io non ti rispetto se hai gli antenati ricchi ti rispetto se sei virtuoso e si imbarca in un discorso in realtà completamente come dire assurdo che non ha niente a che fare con la realtà perché Dante dice giocando sulla confusione fra la nobiltà come rispetto sociale e la nobiltà come virtù e dice va bene se uno è un villano è un villano e suo figlio è un villano anche lui evidentemente perché figlio di un villano e il nipote è un villano anche lui perché e allora il villano non potrà mai produrre qualcuno che sia nobile e perciò è assurdo pensare come pensa qualcuno che col tempo si diventa nobili notate che è proprio così in realtà in realtà col tempo si diventa nobili finché mi ricordo che tuo padre trafficava in bottega non sei nobile ma i tuoi figli fra 50 anni nessuno si ricorderà più che il nonno stava a bottega e allora se sono ricchi e potenti e belli allora saranno nobili Dante in modo totalmente sprezzante della realtà dice questa cosa non è possibile ci mancherebbe che fosse il tempo che nobilita perché allora sarebbe come dire la conseguenza surreale dice Dante sarebbe che quanto gli uomini più smemorati fossero più tosto sarebbero nobili cioè più in fretta mi dimentico del nonno e più in fretta sarò nobile è precisamente quello che succede ma Dante nel convivio è partito assolutamente deciso contro quelli che si vantano degli antenati sì che non dica quelli degli uberti di fiorenza ricordiamoci degli uberti perché li incontreremo fra poco all'inferno sì che non dica quelli degli uberti di fiorenza né quelli degli visconti da milano non dicano dunque gli uberti o i visconti perché io sono di cotale schiatta io sono nobile che per l'appunto quello che diceva l'uomo altiero del guinizelli gentil per sclattatorno Dante dice no no è inutile che si vantino gli uberti o i visconti che sono nobili perché la nobiltà la può conferire solo Dio ed è la virtù della tua anima e il divino seme non cade in ischiatta cioè in istirpe ma cade nelle singulari persone ogni individuo è nobile o non lo è in base alla sua virtù la famiglia non importa niente certo Dante quando ha scritto la canzone che adesso sta commentando era un membro del governo di popolo il membro di un governo che faceva le liste delle famiglie illustri che bisognava escludere dal governo io non mi azzardo a dire che è per quello che lui dice e scrive queste cose però è chiaro che in quel momento va bene dire queste cose a Firenze e poi e poi succederà che Dante da Firenze appunto viene cacciato e quando scrive il convivio è stato già cacciato ma spera ancora di tornare è ancora immerso in questa politica fiorentina e poi invece la sua vita cambia Dante vive il resto della sua vita in un mondo diverso vive il resto della sua vita ospite delle grandi corti nobiliari dell'Italia del nord del centro e del nord dai conti guidi dai marchesi Malaspina dagli scaligeri a Verona e lì lì incontra un mondo diverso lì incontra un mondo dove probabilmente sì i discorsi sul fatto che la vera nobiltà e la virtù si possono anche fare perché a tutti piacciono i giochini letterari ma dove però essere nobili sul serio e di sangue è un'altra cosa è lì lì non rischi come dire di finire nella lista dei cattivi se sei nobile di sangue anzi sarà per quello non sarà per quello certo Dante comincia a cambiare opinione e comincia a cambiare opinione anche per un altro motivo che che diventa sempre più monarchico ovviamente lo sapete Dante in esilio comincia a avvicinarsi ai ghibellini comincia a convincersi che solo l'imperatore può rimettere ordine e giustizia e pace in questo disgraziato paese che è l'Italia e però allora se uno se uno comincia a pensare dopo aver lavorato e fatto politica per sei o sette anni in un governo di popolo e invece comincia a pensare che la forma di governo più giusta sarebbe la monarchia veramente a ben pensarci ma non una monarchia qualunque l'impero l'impero di Roma e allora ecco che scrivi magari un trattato che si intitola la monarchia e in quel trattato che si intitola della monarchia ti può capitare di parlare della nobiltà di sangue non è centrale il discorso però viene fuori a un certo punto viene fuori a un certo punto perché perché tu stai cercando di dimostrare che l'impero romano è davvero la più nobile e virtuosa istituzione che esista al mondo e non puoi fare a meno a un certo punto di ragionare come ragionavano gli antichi romani e di dire che uno dei motivi per cui l'impero romano è così nobile e virtuoso è che ha gli antenati antichi noi veniamo da Enea non come gli altri popoli che non si sa quando sono spuntati ma noi veniamo da Enea abbiamo gli antenati antichissimi e allora però gli antenati rientrano in gioco ed ecco che nella monarchia Dante torna alla definizione che aveva già analizzato nel convivio quella che attribuiva a Federico di Svevia l'antica ricchezza e la virtù i belli costumi qui ha studiato si è ricordato che in realtà il primo che dice questa cosa non è Federico II ma è Aristotele il filosofo nella politica e lo cita e sentite come io traduco dal latino sentite Dante nella monarchia gli uomini sono resi nobili dalla virtù la propria o quella degli antenati è la quadratura del cerchio capite è sempre la virtù che fa il nobile ma va bene anche la virtù degli antenati e non soltanto la tua infatti infatti la nobiltà consiste in virtù e antica ricchezza come dice il filosofo nella politica e come dice anche giovenale la nobiltà dell'animo è l'unica vera virtù e dunque se uno mette insieme tutti questi materiali risulta che ci sono due nobiltà la propria e quella degli antenati e per essere nobili bisogna averle tutte e due e perciò i nobili hanno la precedenza così come l'impero romano ha la precedenza su ogni altra istituzione politica perché è virtuoso e discende da antenati virtuosi Enea era nobile non solo considerando la sua virtù quella c'è sempre ed è indispensabile ma quella dei suoi progenitori anzi mi voglio rovinare anche delle sue mogli perché si è sposato bene con le figlie dei re con Didone e poi ecco e allora anche questi matrimoni e tutta nobiltà che arriva perché la nobiltà degli antenati non svanisce quando loro muoiono rimane lì è un patrimonio di famiglia gli antenati dice Dante parlando di Enea nella monarchia gli antenati e le mogli e in entrambi i casi la loro nobiltà ereditario iure per diritto ereditario in ipsum confluxit è confluita in lui per diritto ereditario allora vedete che meraviglia è sempre la virtù si parla sempre della virtù ma la virtù è una specie di patrimonio che la famiglia si trasmette e così arriviamo per chiudere alla commedia e nella commedia il discorso è un po' diverso perché finora Dante parlava in termini teorici faceva dei trattati ma nella commedia mette in ballo se stesso se stesso e la propria famiglia allora il primo momento in cui il tema capita è proprio quando Dante incontra all'inferno un esponente famosissimo di quella che ai suoi occhi è la più nobile famiglia di Firenze ricordate nel convivio quando deve dire questi nobili che si vantano dei loro antenati chi gli viene in mente gli uberti e i visconti di Milano un uberti farinata Dante lo incontra all'inferno e qui capiamo subito una cosa Dante era tanto arrabbiato con la plebe il volgo che non capisce niente e quando vede uno ricco e potente crede che sia nobile senza sapere che ci vogliono la virtù e magari anche l'antica ricchezza però ecco se i soldi il volgo è ignorante non capisce niente è probabile che davvero tanta brava gente non facesse queste distinzioni ma chi apparteneva alle famiglie invece lo sapeva che la differenza vera è fra chi è diventato una famiglia da poco come quegli sciagurati di villani dei cerchi e chi è una famiglia da tanto tempo gli antenati contano magari non contano per i negozianti e gli artigiani che a queste cose non ci pensano ma fra nobili ci si riconosce per via degli antenati vedete dove voglio arrivare quando farinata vede arrivare Dante e capisce dall'accento che è fiorentino la prima cosa che gli dice è chi fuorli maggior tui e cioè chi sono i tuoi antenati non gli chiede mica chi sei come ti chiami no no quello è secondario la prima cosa che un vero nobile vuole sapere quando incontra qualcuno è chi sono i suoi antenati e Dante che nella divina commedia voi lo sapete Dante riporta spessissimo il proprio discorso virgolettato le virgolette le mettono gli editori moderni ma l'intenzione è quella lui parla in prima persona continuamente e riporta il proprio discorso nel caso della sua risposta a farinata che cosa gli ha detto non lo riporta si limita a dire io ho risposto e farinata mi ha detto ah sì li conosco ricordate fieramente furono avversi a me ai miei e da mia parte eccetera in sostanza Dante ci garantisce che farinata i suoi antenati li conosceva però ce lo dice lui e che cosa abbia detto Dante a farinata per spiegargli chi erano gli alighieri non ce lo dice però poi la cosa gli rimane lì evidentemente bisogna arrivare a risolverla a questa cosa chi siamo noi capite siamo già al punto per sapere chi sono io devo sapere chi siamo noi io sono Dante ma sono un alighieri chi siamo noi alighieri ne parleremo al momento giusto nel paradiso Dante non è cavaliere non era cavaliere suo padre non era cavaliere il nonno non era cavaliere il bisnonno c'era appunto un cavaliere o due in un ramo collaterale ma lontani però nel paradiso Dante scopre che il trisnonno era cavaliere e qui voi a questo punto avete gli strumenti per capire cosa significa essere cavaliere è il criterio con cui si distinguono i nobili avere il cavaliere in famiglia certo per fortuna è il trisnonno quindi non corriamo rischi politici ma comunque e se importa l'antica virtù e più antica meglio è e beh avere il trisnonno cavaliere è ancora meglio che avere il papà cavaliere l'antichità lì è garantita e quindi Dante nel quindicesimo del paradiso incontra il trisnonno cacciaguida sono passati tanti anni da quando scriveva il convivio ormai sono tanti anni in cui lui come dire vive in corti dove non si ride più della nobiltà di sangue anzi e allora Dante mette in scena questo meraviglioso dialogo col trisavolo cacciaguida il quale per prima cosa gli dice io sono il tuo antenato offronda mia in che io compiacemmi pur aspettando io fui la tua radice cacciaguida dice compiacemmi loro in paradiso sanno tutto quindi lui sa arriverà il discendente e pensa che bello per me cacciaguida sapere che dopo tante generazioni un mio discendente verrà a trovarmi poi gli dice voi avete un nome siete una famiglia con un nome da più di cent'anni perché è mio figlio Alighiero che vi ha dato il nome e lui è morto più di cent'anni fa quel da cui si dice tua cognazione quello da cui prende il nome la tua famiglia e che cento anni e più è girato a il monte nella prima cornice è in purgatorio mio figlio fu e tuo bisavo fue quindi secondo punto non solo il trisnonno cavaliere ma noi siamo gli alighieri da cent'anni abbiamo preso nome dal mio bisnonno dopo di allora non siamo più come quei poveretti la gente comune che si chiama col nome del babbo noi ci chiamiamo col nome del bisnonno e il padre di quel bisnonno non solo era cavaliere ma è stato fatto cavaliere nel modo più onorifico che si possa immaginare sapete la cerimonia con cui si diventa cavaliere si può fare in vari modi si spende sempre molto comunque ma ci possono essere tante formalità ma una cosa è fondamentale deve essere un altro cavaliere che ti trasmette la qualifica cavalleresca ci può essere qualche eccezione anche un vescovo può fare dei cavalieri a volte ma normalmente è un altro cavaliere più è una persona importante e meglio è naturalmente il bisnonno cacciaguida l'ha fatto cavaliere l'imperatore perché è andato alla crociata con l'imperatore corrado poi seguitai l'imperador currado dice cacciaguida e tel mi cinse della sua milizia cioè mi armò cavaliere tanto per bene ovrar gli venni in grado tanto gli piacqui gli venni in grado per la mia virtù per bene ovrar in realtà poi di imperatore di nome corrado ce ne sono stati diversi cacciaguida è vissuto il tempo di corrado terzo ma questo passato è un passato nebuloso loro non è che abbiano le idee così chiare sulla cronologia tanto per dire pietro di dante il figlio di dante che si chiama pietro di dante non pietro alighieri di solito però è perché dante è così famosa a quel punto è un altro motivo insomma pietro di dante figlio di dante che scrive un commento alla commedia parlando di questo imperatore corrado lo confonde e crede che sia corrado secondo il salico vissuto un secolo prima non guasta evidentemente anziché al dodicesimo secolo risaliamo all'undicesimo in ogni caso questo fatto di avere l'antenato cavaliere è cruciale io vi dicevo all'inizio che a firenze si dà del messere soltanto a chi è cavaliere bene se voi leggete i commenti alla divina commedia del trecento del quattrocento o la vita di dante di leonardo bruni metà quattrocento tutti quanti quando citano cacciaguida dicono messer cacciaguida al lettore di oggi non avvertito può sembrare una cosa insignificante invece ha un significato enorme cacciaguida e messere va anche detto per accentuare questa cosa che ho già accennato e cioè che in realtà questo passato per loro è nebuloso Dante non ha mica le idee chiare su cosa voleva dire essere cavaliera nella Firenze del dodicesimo secolo nella Firenze del dodicesimo secolo non c'erano i cavalieri addobbati non si usava quel rituale non era affatto conosciuto si era cavalieri perché avevi cavalli fondamentalmente era una cosa molto più informale lui invece si immagina che già ai tempi del trisnonno la cavalleria fosse come ai suoi tempi come la laurea un rituale che fa di te una persona diversa ecco e poi a questo punto c'è questo momento straordinario in cui Dante davanti alla rivelazione che c'ha l'antenato cavaliere si commuove e si inorgoglisce ed è uno di quei momenti non rari nella commedia molto belli secondo me in cui Dante come dire descrive dall'esterno le proprie reazioni anche in modo autoironico o se non autoironico però comunque con un distacco di saper dire io lì in quel momento guardate come siamo deboli noi uomini ecco in sostanza Dante dice pensate io lo so che la nobiltà di sangue è poca roba ma lì sono stato contento o poca nostra nobiltà di sangue se gloriar di te la gente fai qua giù sulla terra dove l'affetto nostro langue mi rabi il cosa non mi sarà mai e cioè non mi stupirò più del fatto che la gente qui nel mondo si gloria della nobiltà di sangue che è là in paradiso dove appetito non si torce cioè dove tutto va dritto allo scopo verso Dio dove non è possibile avere nessun pensiero negativo ecco questo è il punto in paradiso non si possono pensare se non cose giuste ebbene io lassù dico nel cielo io me ne gloriai e vedete com'è complesso lui ci tiene a dire nello stesso giro di versi che la nobiltà di sangue è poca cosa certo però è una roba così importante che perfino in paradiso io quando ho scoperto che ero nobile di sangue col trisnonno cavaliere e da cent'anni noi siamo gli alighieri perfino in paradiso io mi sono gloriato di questa cosa dopodiché ben inteso ecco come vedete siamo alquanto lontanucci dal discorso ecco uno non si deve non dica uno sono di schiatta nobile no no qui invece Dante dice precisamente sono di schiatta nobile e sono molto soddisfatto di essere di schiatta nobile e anche in paradiso in mezzo ai beati posso guardare dall'alto in basso i plebei perché io invece sono nobile poi ben inteso siccome sono un intellettuale conosco le regole del gioco o poca nostra nobiltà di sangue eccetera eccetera si rivolge alla nobiltà e le dice ben sei tu manto che tosto raccorce sei in verità un mantello la nobiltà che si accorcia in fretta sicché se non s'appondi di indie cosicché se non si aggiunge di giorno in giorno e cioè bisogna che ogni nobile sia virtuoso anche lui in modo da aggiungere ulteriore nobiltà a quella ereditata perché altrimenti se non ci aggiungi la tua il mantello si accorcia lo tempo va d'intorno con le force le forbici il tempo è lì con le forbici che accorcia che è di nuovo una cosa controintuitiva in realtà da più tempo sei nobile più sei rispettato ma qui lui si ricorda di quando scriveva che quello che conta è soltanto la virtù personale e allora in extremis aggiunge certo antica ricchezza ma anche belli costumi la nobiltà funziona solo se metti insieme le due cose dopodiché però appunto la nobiltà di sangue sarà anche poca cosa ma è una gran bella cosa e quando non sei più un membro del governo di popolo che fa le leggi contro i magnati ma sei ospite della scala e allora poter dire io non sono mica il primo venuto non sono uno di quei plebei che fanno i soldi a Firenze io discendo da un cavaliere dell'imperatore ecco allora qualcosa serve evidentemente grazie della vostra pazienza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti